Ciao a tutti, fanori della Piave. La partita di sabato è una partita un po' complicata. Abbiamo giocato a fasi alterne, a parte il primo set che abbiamo saputo giocare come una squadra, come sappiamo giocare molte volte. Forse questo è anche dovuto a un po' di tensione che si è formato in campo dopo qualche punto sbagliato, però può anche essere dovuto a una preparazione errata durante la settimana. Ma ora siamo pronti e carichi per riprepararci per la prossima partita, dare il massimo e tutto questo solo per voi, per offrire un bello spettacolo. Vi aspetto ai numerosi, prossima partita, quando questo viene.